Invernale abbiamo iniziato il brodo di cappone in onore al Natale che sta arrivando La Celestina è il nostro vecchio piatto della nonna sono delle tespelle con un pochino di burro tagliate a sticciolina e poi fatte del brodo Il brodo è quello del cappone perché l'inverno, insomma il Natale bussa alle porte quindi abbiamo il pollo delle feste Poi abbiamo fatto un tagliatella con il coniglio l'abbiamo un pochino strutturata in più col cioccolato fondente che ricorda un po' il nostro uso toscano di fare il coniglio, la lepre, la lingua, il cinghiale in dolceforte quindi mischiare il cioccolato fondente con una preparazione salata Poi la faraona, quindi questo volatile, in omaggio all'autunno quindi fatta con le castagne e con questo sapore di salvia per andare un po' a raffrescare il piatto stesso Poi chiudiamo di nuovo l'autunno con tematia tutta bianca-bianca-marrone andiamo col castagnaccio perché perlomeno non appesantisce troppo il fine pasto Non ci fai bene il po' a sbagliate, non ci fai bene il po' a sbagliate